Vieni con noi in Russia e scopri come una scuola ventista sta cambiando la vita dei giovani. Masha era scoraggiata, il futuro le sembrava tetro. Sua madre aveva il cuore spezzato nel vederla in quello stato ed ebbe un'idea. Le chiese se le sarebbe piaciuto frequentare una scuola cristiana a Zoalski. Si trattava di un collegio della chiesa ventista. Masha voleva ricominciare da zero, così accettò. Nella nuova scuola però era ancora sola, non sapeva come fare nuove amicizie. Poi alcuni dei suoi compagni di classe la contattarono e uno studente le parlò di Gesù e le diede dei suggerimenti per pregare, per costruire un rapporto con il Signore. Masha seguì quei consigli, cercò un luogo tranquillo e aprì il suo cuore a Dio. Da quel momento in poi la vita di Masha non è stata più la stessa. Ora ha un salvatore e un amico di cui può affidarsi. La scuola cristiana a Zoalski opera in Russia dal 1993 e molti studenti sono stati benedetti dall'educazione ventista. Qui ci sono molte cose positive. Il cibo è buono e il secondo vantaggio è che gli insegnanti qui sono tutti felici, trattano bene i loro studenti. Soprattutto molti studenti possono imparare che Gesù è il loro salvatore, proprio come è accaduto a Masha. Quando la scuola fu aperta, inizialmente c'erano solo quattro insegnanti e pochi studenti. La scuola utilizzava le aule del campus dell'università ventista di Zoalski. Il numero di studenti è cresciuto gradualmente. Oggi ne abbiamo 200. Non facciamo noi pubblicità alla scuola. Sono le persone a parlarne spontaneamente agli altri. La scuola ha una buona reputazione nel paese. Riceve recensioni positive da parte dei genitori e dei ragazzi che si sono diplomati. Grazie alla popolarità della scuola cristiana a Zoalski, ecco arrivata una nuova sfida, la mancanza di spazio. Non riuscendo ad accogliere altri iscritti, molti bambini non potranno ricevere un'educazione cristiana. Ecco perché abbiamo bisogno di un nuovo edificio per la scuola elementare. Una parte delle offerte del tredicesimo sabato di questo trimestre servirà per costruire un nuovo edificio scolastico della scuola cristiana a Zoalski nel campus dell'università ventista. Attualmente la scuola si serve delle aule dell'università ma le vostre offerte faranno sì che i bambini possono avere classi tutte per loro. Grazie per il vostro generoso sostegno all'educazione avventista in Russia. La vita di tanti bambini come Masha sta cambiando.